10 5 3 2 1 Via 50 Sinistra veloce 50 Destra veloce Sinistra veloce Destra veloce 50 Sinistra 4 4 Per tornantone sinistro Per tornantone destro Destro 80 Al blu Destra 4 80 A vista Finerail Sinistra 4 Finerail Sinistra 4 70 Destra 4 In Tornante sinistro 4 In Tornante sinistro 60 Sinistra veloce Per Destra 5 In sinistra veloce Per Destra veloce Per Tornante destro Tornante destro 70 Sinistri Tornante sinistro 50 Destra veloce 100 Sinistri E 100 E 100 A vista Alla casa Destra 4 Gira 4 Gira 80 Tornante allungato Tornante allungato 50 50 Sinistra veloce 50 Sinistra 1 sale 1 sale 60 Sinistra veloce 70 Sinistra 3 In Inversione destra In sinistra 3 70 Dopodosso Destra 3 70 80 Chicane Doppia ingresso Destro Doppia ingresso Destro 80 Sinistra in destra 5 50 Destra 4 In sinistra 4 80 Chicane Ingresso Destro Chicane Ingresso Destro Per Sinistra 3 Per sinistra Veloce giù Veloce giù 60 Destra 5 Lunga In Tornante sinistro E 60 Tornante destro E 60 Sinistra 4 50 Sinistra 3 3 50 50 Destra veloce In destra 4 Lunga 4 Lunga 50 Sinistra 4 60 Destra 5 Sinistra 5 Occhio muro esterno E 70 A vista Destra 5 Per Chicane Ingresso Destro Tira fino alla fine Dai bene Oh Under VitrGo Motta Diren prisons Estra 5 Ar FL 3 Tornante Nじゃ 2 Mis opponents favour Edra 2 Seい Durante La Trwa Clara Grazie a tutti. Grazie a tutti.